Dalle stanze del Ministero della Cultura di Roma all'esultanza si montagna nella Sala Rossa del Comune di Pesero fino al brindisi serale nel cortile di Palazzo Gradari, luogo dove si è concluso un 16 marzo che rimarrà memorabile per la città, una data che proietta a Pesero un anno e mezzo nel futuro verso un 2024 che la vedrà capitale italiana della cultura. Un risultato straordinario per un grande bersaglio centrato dall'amministrazione di Matteo Ricci catapultatosi ieri da Roma a Pesero per festeggiare con la sua città orchestra. Sono molto contento, ringrazio Vimini e tutta la squadra perché sono stati davvero straordinari e bello, molto bello e anche se questo clima di guerra non ci fa esultare come vorremmo tant'è che abbiamo dedicato la vittoria a Kharkiv perché immaginare che c'è una città della musica come noi che in questo momento sotto le bombe da come dire da una grande tristezza però è anche un modo per dimostrare che con la cultura si sconfigge anche la guerra o comunque è un grande antidoto contro la guerra e contro la violenza quindi siamo molto soddisfatti, viva Pesero e viva Kharkiv. E la tematica ucraina ricorrerà anche nella festa che si apparecchierà per celebrare la vittoria. Un appuntamento che si sta organizzando per sabato al centro artivisive pescheria per un pomeriggio e una sera in musica in cui Ricci ha invitato tutta la città e tutti i sindaci della provincia. Una festa che si aprirà con il concerto del pianoforte di Diana, bambino ucraina di nove anni scappata da Kharkiv con la mamma e la sorella. Un enfant prodige della musica internazionale che avrà la possibilità di continuare a studiare musica a Pesero grazie ad un'operazione tessuta dal conservatorio e dal vice sindaco Daniele Vimini che metabolizzata l'esultanza guarda già al grande lavoro all'orizzonte. Sarà un anno quello che si aspetta davanti, il primo, un anno straordinario di promozione, di comunicazione e anche di riorganizzazione del lavoro perché gran parte del progetto era scritto ma tanto ancora deve essere realizzato assieme alle amministrazioni del resto della provincia e anche il lavoro che abbiamo annunciato di volere condividere con Ascoli e detto questo appunto subito al lavoro perché alla fine il 24 è anche vicino e il programma che ci siamo dati di lavoro per il 2024 è veramente ambizioso, fatto veramente di 52 settimane e ogni settimana di sette giorni quindi anche per quello sarà bello condividerlo con tutto il territorio provinciale e il lavoro vero e proprio diciamo riprende lo mattino. Una vittoria da tutti giudicata è il risultato di un lavoro di squadra, quello di una città orchestra che ha assemblato una melodia da premio. La direzione sta nell'amministrazione ovviamente e tutti noi siamo stati felici di dare il nostro contributo sia individuale ma anche come istituzioni che abbiamo l'onore di rappresentare. È una giornata che fatico ancora a inquadrare perché veramente una soddisfazione e una gioia enorme ed è anche un grande impegno che ci stiamo assumendo per il futuro della nostra città. Grazie. 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 Grazie.